al monologo siamo arrivati al monologo siamo arrivati al monologo allora ragazzi ehm innanzitutto è giusto gioire per come è venuta la vittoria pure perché era era un mese pareva che sto sto pallone entrava mai a Roma ha strameritato la vittoria e tutto quanto però ragazzi per non sminuire troppo la nostra Roma pure basta eh comunque è battuto uno Spezia che lo Spezia secondo me io lo dico sempre se sono squadre che stanno in Serie A perché la Serie A ormai ha venti squadre perché è veramente diciamo in declino il calcio italiano ma Spezia Empoli Venezia in altri in altre Serie A facevano facevano la Serie B ragazzi è inutile dire è inutile fare eh poi loro anche in dieci a fine primo tempo la Roma che fa una mezz'ora bella una mezz'ora bella era calata l'ultimo quarto d'ora del primo tempo era calata di di intensità era salita anche un po' lo Spezia il momento migliore dello Spezia è stato buttato fuori giustamente il giocatore Spezzino e sono rimasti in dieci secondo tempo la Roma eh come giusto che sia essendo più forte undici contro dieci le prova tutte il pallone non ha voluto entrare alla fine il calcio di rigore salgro santo due a uno per la Roma io vorrei evidenziare una cosa allora innanzitutto eh io voglio vedere in quanti di voi eravate contenti se la partita finiva in pareggio eh oggi c'è sta un altro po' gente ancora che sta festeggiando giro io dico regà sì tutto bello però c'è una è una vittoria con lo Spezia non non abbiamo fatto assolutissimamente niente abbiamo finito un ciclo di partite dove dovevamo fare più punti perché adesso inizia il bello inizia il bello inizia sabato contro l'Atalanta poi andiamo in Conference League mh dopo andiamo a Udine nel mentre Conference League e dopo Derby questo sarà un croceria troppo importante da della stagione ieri noi abbiamo fatto il nostro dovevamo fare quello riprendere in forza tre punti dopo che avevamo perso altri punti per strada con tre pareggi con sei godiri con squadre che noi potevamo battere la cosa bella che mi è piaciuto della Roma e lo avrei detto anche sul pareggio mi è piaciuta la Roma come ha giocato come ha giocato ha sbagliato molti meno passaggi a livello individuale ha avuto ehm il coraggio di provare di uscire da dal basso con possesso palla era una squadra che aveva ampiezza portava tanti uomini dentro l'area di rigore vi dico lo sai che partita mi ha ricordato a tratti Venezia Roma voi mi dite ma come è possibile siamo preso tre gol ecco a Venezia ho detto subito a Venezia l'arbitro ci ha rapinato la partita ma mi è sembrata la stessa partita una Roma che ha provato a giocare una Roma eh tranquilla Murigno ha ha potenziato il centrocampo c'era gente che sapeva comunque eh palleggiare mi è piaciuta mi è piaciuta mi era piaciuta anche a Venezia eh sono andato contro tutte e tutti perché ripeto io non so schiavo del risultato ma ha dei prestazioni e e partite si possono perdere e si possono pareggiare ieri se la Roma pareggiava che sa prendevamo caro ma no perché a Roma se sono magnati i gol questi sono i comuni del calcio tu devi vedere la la Roma che comunque ha costruito tanto palla palla ne entra perché ieri propetelle era Ed Warner o Benjamin Price mh pali traverse e palle uscite de poco c'è se il calcio c'è stato ci sta come quando da ruba l'arbitro ieri era una partita veramente eh stregata per me non cambiava il mio giudizio avrei applaudito eh la Roma però poi per fortuna l'abbiamo vinta adesso la classifica eh la classifica ci sorride ma e io credo che ve l'avevo anche anticipata sta cosa vi dicevo pensate ragazzi con tutto quello che è successo con che abbiamo giocato male con quella e quella ci troviamo ancora là ci troviamo ancora là ci troviamo nel pieno nel pieno eh in piena Europa League con un occhio alla Champions League dove io non ci credo per niente lo dico subito però un occhio ci lo buttamo noi la alla Champions League ma stiamo là in in un Europa League e va bene già abbiamo comunque superato la Lazio un'altra volta anche se io la classifica tendo a non guardarla perché è un po' diciamo scusate eh è un po' bugiarda adesso perché c'è un sale scende anche l'altro anno con Fonseca non c'è vista le partite poi quando incontrava me anche stanno hanno incontrava le squadre quelle del Serie A quelle vere in certi contesti ta da da ritorniamo nel barato adesso eh non c'è niente da fare mo abbiamo vinto sta partita però veramente adesso arrivano le partite serie serie partite di campionato dove la Roma c'è una partita tosta con l'Atalanta lo sapete con l'Atalanta è sempre tosta poi va Vitesse dove la deve chiudere Vitesse da Roma deve vincere quattro a zero cinque a zero perché vi spiego il perché perché poi il ritorno ce l'hai a tre giorni prima del derby e io vorrei giocare con Boveco Zeleschi con Missori e tutta sta gente qua per dire no Carles Perez nel senso raga chiudiamo andata perché poi è ritorno a sta tre giorni prima del derby e poi c'è il derby eh questo è un ciclo di partita dove ti può di ti può dare tutto ti può togliere tutto perciò io rimanerei calmo piedi per terra e anche al nostro capitano non nostro vostro capitano eh eh Lorenzo Pellegrini che che vi dice che vi dice eh no perché noi vogliamo vincere vogliamo andare in Champions io prima desta partita non mi non non mi sembrava oltretutto non lo direi dopo la la vittoria con lo Spezia aspetterei per dire questa cosa qui almeno dopo la partita con la Lazio queste cose che a me non mi piacciono del del vostro capitano a me non mi piacciono queste cose lo dico da sempre eh non mi piacciono non mi piacciono i programmi vorrei vedere più fatti in campo ieri Pellegrini gioca anche una una buona partita secondo me è stato uno dei più positivi eh ha fatto delle cose veramente importanti delle altre cose meno non mi è piaciuto come al solito anche ieri l'ha fatto due volte che ha mandato a quel paese Abram io eviterete faste cose però in campo è andato bene però quello che ha fatto ieri con Spezia lo vorrei vedere anche in partite eh più importanti da Pellegrini e da tutti gli altri poi ve potrei dire ehm questo è tutto bello tutto quanto va bene eh Pinto prima da partita per quanto riguarda Mancini è un bugiardo mh Tiago Pinto lo abbiamo capito dopo quando ha detto Roma degnate Murigno abbiamo capito che è un bugiardo soprattutto io che le cose le so loro dallo scorso anno hanno deciso di eh dare la Roma a Pellegrini, Mancini e Cristante che sono i tre leader l'abbiamo raccontato duecentomila volte e hanno deciso anche di fare il nuovo Pellegrini a Beies cadeva anche a Mancini da tanto tempo io credo che ieri uno che non è stupido ha capito che il contratto da Mancini è già rinnovato quando dice eh Tiago Pinto no vabbè dai eh il ragazzo lo sa che tanto lui è il è il nostro modello è il nostro noi vogliamo vogliamo questo tipo di giocatori qui voi io no vogliamo questo tipo di giocatori qui e e ti dice eh adesso deve pensare al campo però poi però poi è fatto è inutile metti le palle dentro e annuncia sto rinnovo che tanto sappiamo tutti che è fatto io vorrei sapere perché però in privato non dice eh Tiago Pinto non dice eh uguale sul rinnovo del Zagnolo eh in privato dice altre parole sul rinnovo del Zagnolo eh non ve le posso dire ma dice che praticamente ragazzi è che vogliono questi procuratori qui ok però perché per Mancini non era uguale Mancini che oltretutto già gli era stato rinnovato automaticamente fino al duemilaventisei e a Zagnolo gli è scato il duemilaventiquattro bene e io non vorrei che qui mmm gattacicova ve lo dico sempre ragazzi date da diretta eh date retta Alessio io non lo so se Zagnolo rimane o no ma non ci metta la mano sul fuoco dipende dalle offerte perché c'è qualcosa che non quadra fra sia fra l'entrazione del Zagnolo e sia i comportamenti da Roma perciò io non non sapete che non ve prendo in giro non ve dico che è fatto il rinnovo del Zagnolo perché o che Zagnolo rimarrà il prossimo anno perché una cazzata non lo può sapere nessuno anzi io ve dico secondo me se arriva un'offerta di quelle importanti Zagnolo va via ma sai che ve dico da quello che che riesco a captare eh io poi ieri prima della partita Zagnolo che manda i like ehm alla ai giocatori da Juve non mi è piaciuto non mi è piaciuto non vorrei che c'è una strategia però non mi è piaciuto eh io se ero la società comunque una tiratina d'orecchia gliela davo perché comunque dovete anche ricordarvi la storia eh che c'è fra Roma e Juve Roma Juve eh è una una sorta di derby a Roma devi giocare una partita prima della partita da Roma metti like ai giocatori da Juve anche no è una cosa che io ehm non da tifoso non mi è piaciuta però fate fate come vi pare e per resto ho detto io ve lo stavo dicendo io ti ho vinto adesso non ve voglio rovinare eh il giorno diciamo dobbiamo essere contenti ma io ti ho vinto veramente rimango sbalordito sempre di più ogni volta che parla ogni volta che poi dice anche delle delle bugie secondo me è bugiardo per me è bugiardo come ha detto quando ha detto che Roma era una scuola degnata e murigno oggi tutti tutti contenti io spero che la Roma rimanga rimanga così e e poi ste facce qua ste dichiarazioni le voglio anche dopo perciò adesso trottiamo in campo trottiamo in campo una Roma come quella di ieri sicuramente il Vitesse ci vince gioca a palla e con l'Atalanta non lo so se abbasta con la Lazio non lo so se abbasta Corbitezza ci gioca a palla con France League la Roma secondo me può dire anche anche la sua c'è anche un Marsiglia un po' un po' in calo ehm speriamo bene ehm perché perché è importante riprenderci e quello che quello il cammino che è nostro però non a parole con i fatti con i fatti e no fai grossi dopo Spezia Roma famo i grossi contro quelle grosse come noi perciò sabato c'è una partita dove a Roma deve dimostrare perché se tu non vinci sabato voi diciate che l'Atalanta dice forza no ma almeno fare grande prestazione e comunque vanifichi quello che hai fatto con Spezia per dargli una continuità alla prestazione alla vittoria con lo Spezia devi fare uguale contro l'Atalanta per forza ma l'Atalanta quello che la dimostrò a continuità che non abbiamo mai dobbiamo trovare una continuità non a parole voglianna in Champions volemmo vince ce vanno i fatti in campo un gruppo una squadra ieri è un una delle io credo che le partite belle da Roma stanno non si contano su dieci dita non ci arrivano a dieci dita stiamo a più di trenta e dieci dita non ci arrivi perciò io credo che dobbiamo dobbiamo per forza per forza cambiare cambiare rotta e dare un po di più allora ragazzi adesso adesso leggiamo un un po un po di più 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 Grazie a tutti.